Riflettori accesi sulla pizza ad Arezzo in questo fine settimana con la manifestazione Pizza in Piazza, che si svolge in piazza Sant'Agostino, una a due giorni che unisce il gusto e il divertimento sotto il segno della pietanza tricolore più conosciuta al mondo. Ce n'è una persino dedicata alla manifestazione che si chiama Terre d'Arezzo. Sì, questo bel festival della pizza che durerà due giorni insieme a tanti bimbi, tante famiglie, tante gente femminile che vuole vivere il centro storico, vuole vivere le piazze del centro di Arezzo. Noi ci stiamo dando da fare come sempre, si è costituito un bellissimo gruppo di amici più che altro, ci divertiamo noi per prima e facciamo divertire anche alla zette. A Prato Vecchio prende invece il via alla Beer Fest, sarà possibile raggiungerla anche con un treno speciale sulla tratta Arezzo-Prato Vecchio. Sempre domenica 27 settembre si tiene la sessantesima edizione di Foto Antiquaria, che coincide anche con il sessantesimo compleanno dei musici. Ci sarà un concerto alle 10.30, mentre Foto Antiquaria andrà avanti fino alle 18 sotto il loggiato vasariano. Infine, alla Catona, una grigliata per raccogliere fondi e comprare per tutto il quartiere a retino un sistema di telecamere di videosorveglianza. Organizzata dalla Confesercenti dalle 16 fino alle 22, panini, porchetta e dolci saranno dunque le armi di commercianti e residenti per dire no alle continue incursioni dei ladri.